Se ci tieni alle tue canzoni, smettila di buttarle nel cesso, fermati un attimo prima di pubblicare l'ennesima canzone che farà zero ascolti e fatti queste cinque domande. Cinque domande da farti prima di pubblicare la tua prossima canzone. Ciao guerrieri, in questo video voglio darvi cinque spunti su cui riflettere prima di pubblicare la vostra prossima canzone. Perché prima? Perché se queste domande ve le fate dopo, ormai è troppo tardi. Queste domande vanno fatte prima, prima di pubblicare, e aggiungo io, sprecare la prossima canzone. Perché diciamoci la verità, se tu investi tempo, soldi, energie per realizzare canzoni che poi pubblichi a cazzo di cane e ti fanno cinque ascolti, queste canzoni le stai sprecando, le stai buttando nel cesso. Quindi so che ti può dar fastidio sentire queste parole, ma è la sacrosanta verità, qualcuno te lo deve dire. Stai buttando nel cesso le tue canzoni. Quindi se ci tieni, non buttarle nel cesso. Fatti prima queste cinque domande in modo da valorizzarle. Vediamo quali sono queste cinque domande. Allora, la prima domanda che dovresti farti è So come creare attesa per questa canzone? Quindi, prima di pubblicarla, sai come creare attesa? Perché se non crei attesa, quando la pubblichi, non c'è nessuno che la sta aspettando. E se non c'è nessuno che la sta aspettando, non l'ascolta nessuno. Pensa ai cinema. Cosa fanno i cinema per cercare di sopravvivere? Pubblicano i trailer dei film mesi prima. Perché in questo modo tu vieni a sapere che sta uscendo un film e ti fan venire voglia di vederlo. In modo tale che quando esce, tu vai a vederti il film. Perché se loro non ne parlassero tu, uno, non sapresti manco che è uscito quel film. E due, non te ne fregherebbe niente. E quindi loro fallirebbero. E considera che queste sono produzioni gigantesche. Cioè, stiamo parlando di film da milioni di euro, con attori famosi, film mainstream. E comunque hanno bisogno di fare queste cose. Figurati tu che sei emergente. Che nessuno sa chi sei e non gliene può fregare di meno. Quindi, bisogna creare attesa. Considera che hanno annunciato che il terzo episodio di Dune uscirà nel 2026, mi sembra. Cazzo, siamo nel 2024, te lo stanno dicendo adesso. Quindi, prima cosa, chiediti. So come creare attesa per questo brano? O lo butto fuori a sorpresa con le balle di fieno che passano perché nessuno se ne è accorto? Seconda domanda. So come annunciarla questa canzone? O sfodererò il mio magico nuovo singolo fuori ora dalla manica? Perché se non sai come annunciarla, non andrà bene, insomma. Cioè, parte della promozione è proprio come comunichi. Cioè, nel senso, una canzone bella ma comunicata male diventa una canzone brutta. E viceversa, più o meno. Quindi, mettiamo anche che riesci un po' a creare attesa. Ma se poi mi dici, nuovo singolo fuori ora, cioè, mi neutralizzi tutto. Invece è fondamentale avere delle frasi, e meglio ancora, dei contenuti, delle trovate geniali, per farlo sapere che hai fatto questa canzone, per raccontarla come Dio comanda, perché altrimenti tu sprechi il 99% per realizzare la canzone dell'anno, e poi l'1% per comunicarmela. Con il risultato che me la comunichi a cazzo di cane, e quindi sembra che poi la canzone fa schifo, quando invece magari è il capolavoro assoluto. Quindi, mi raccomando, pensa anche a come annunciarla. Terza domanda, conseguente. So come promuoverla poi una volta uscita? Perché una volta che la canzone è uscita, al di là di dire è uscita, che facciamo? Perché ovviamente non puoi pensare che la gente la ascolterà così, per magia, solo perché tu l'hai pubblicata. Perché non funziona così? Primo, perché ci sono altre 40.000 canzoni ogni giorno, e non è un numero a caso, e secondo, perché probabilmente hai pochi ascoltatori, quindi non c'è neanche quella cosa che Spotify avvisa quelli che già ti seguono, a parte che già non lo fa quasi mai, o comunque lo fa in ritardo, ma comunque se hai 10 ascoltatori, insomma, non è che cambia molto la situazione. Se tu vuoi essere conosciuto da più persone, bisogna fare la promozione, che significa farti conoscere da più persone. e non può essere solo dire ho fatto una canzone, ci vogliono tutta una serie di azioni per far sì che accada. Ce ne vogliono tante e ce ne vogliono, diciamo, fatte bene. Non è che basta fare un'inserzione a caso o pagare l'influencer, tiktoker che passa di lì, perché prova, vedrai che non serve assolutamente a una cippa. Quindi, terza domanda, prima di pubblicare e sprecare la canzone, è ma poi so come promuoverla? O mi ritrovo lì a fissare il muro? Quarta domanda, so come raccontarla bene sui social? E questo vale sia prima che dopo che la canzone è uscita. Perché, ripeto, una canzone bella raccontata male diventa una canzone brutta, o sconosciuta, o tutte e due. Quindi, una volta che sarò lì sul mio Instagram e devo creare contenuti tutti i giorni per far sì che questa canzone sta uscendo, per dire che questa canzone sta uscendo, o per far sapere che è uscita, la so raccontare bene, la so valorizzare, so far percepire agli ascoltatori là fuori che questa non è l'ennesima canzone dell'ennesimo emergente fatta in cinque minuti perché non c'aveva niente da fare o perché vuole diventare famoso e fare i soldi, ma invece è una canzone fatta bene, che ha un argomento profondo, che ci tengo, che ci ho messo un anno a farla, che ci ho investito un sacco di soldi, che l'ho fatta col cuore, riesce a far percepire ste cose, o ti limiti a dire ho fatto una canzone e la butti così nel cesso? Perché se non la sai raccontare bene, la gente darà per scontato che non vale niente, che è l'ennesima canzone. Ma prova a pensare, che ne so, ai musei, se tu non hai una guida che ti spiega perché quel quadro è così importante, perché è fatto, è così di valore, perché merita di essere visto, tu che non te ne intendi, per te è un quadro come un altro, non vale niente. E stiamo parlando di quadri famosi, di artisti famosi. Figurati per un emergente. Ora, noi non abbiamo la guida che va dagli utenti a spiegargli allora questo artista è bravissimo, questa canzone merita, perché quindi o lo fai tu o lo fai tu. Quindi la quarta domanda è so come raccontarla bene sui social sta canzone o la butto fuori e dico ho fatto una canzone? E infine, la quinta domanda. So come renderla virale? E tu potresti dirmi ma che me frega a me di renderla virale, non è che voglio fare i balletti su TikTok eccetera, ma attenzione, cosa vuol dire virale? Virale vuol dire che tanta gente la incontrerà e la condividerà, perché virale vuol dire che si diffonde a macchia d'olio. Ora, diciamo, neanche a me interessa essere la celebrità nazional popolare, ma facciamoci, ti chiedo questo. Secondo te, per il bene della tua canzone e della tua carriera, è meglio se la tua canzone viene conosciuta da dieci persone o è meglio se viene conosciuta da un milione di persone? Secondo me, da un milione, possibilmente in target. Perché? Perché di quel milione, poi magari diecimila iniziano a seguirti su Instagram, iniziano ad ascoltarti regolarmente su Spotify e ti serve questa cosa. Quindi, ancora una volta, so come far sì che questa canzone si diffonda a macchia d'olio, poi può voler dire un milione, può voler dire centomila, dipende dal tuo genere. Ovviamente se fai black metal non ci aspettiamo un milione di persone, anche se volendo si può fare, ma so come diffonderla o ancora una volta mi ritroverò lì con la mia canzone che ho fatto tre ascolti e dico ok, bene, passiamo alla prossima. Quindi, riassumendo, so come creare attesa per la mia canzone, so poi come annunciarla, una volta che è uscita so come promuoverla, tra una cosa e l'altra so anche come raccontarla, a questa canzone e so come renderla virale, quindi come far sì che raggiunga milioni di persone anziché dieci persone, se sai queste cose allora vai, spingi forte e fai in modo che questa canzone ottenga il miglior risultato che le tue capacità e le tue finanze al momento ti permettono. Ma se non sai rispondere a queste cinque domande e ci tieni alla tua canzone, fermati, smettila di pubblicarle, stai continuando a buttare nel cesto tutte le tue canzoni una dopo l'altra, non è meglio fermarsi, capire come risolvere questi problemi e poi pubblicare le tue canzoni? Perché se ne hai 300 già pronte e non sai cosa farne, ok, buttale fuori una settimana e qualcosa succede, ma se ne hai poche e immagino che il budget non sia infinito, sarebbe il caso di valorizzarle queste canzoni, quindi non di buttarle nel cesto una dopo l'altra, ma di fermarsi un attimo e cercare di ottenere un risultato degno almeno, cioè arrivare almeno ai mille ascolti per ogni canzone prima di pubblicarne un'altra, altrimenti è una valanga di fallimenti una dopo l'altra. Quindi, se vuoi una mano per queste cose qua, soprattutto per il quinto punto, quindi come rendere virale le mie canzoni, abbiamo appena realizzato una guida gratuita che te lo spiega, c'è la strategia completa che utilizzo su di me e sugli artisti che seguiamo. è gratuita, l'unica cosa che devi fare è venire sul nostro Instagram Ronin Music Marketing e mandarmi un DM con scritto guida. Io te la mando, te la scarichi e te la leggi e almeno facciamo un passo avanti. Poi se vuoi lavorare con noi eventualmente ne parliamo, ma almeno facciamo questo primo step. Quindi mi raccomando, smettila di buttare tutti i tuoi singoli nel cesso, fermati un attimo e risolviamo questi problemi. Detto questo, io ti do appuntamento a domani con il prossimo video. Ciao guerrieri!